La MPB è lieta di presentarvi il nuovo sistema SEMS, Shielding Effectiveness Measurement System, sistema di misura dell'efficienza di schermatura. Il SEMS è stato ideato e progettato per soddisfare le crescenti esigenze di collaudo e di verifica dell'efficienza di schermatura, di ambienti in risonanza magnetica e applicazioni quali camere EMI e MC, shelter militari e cidili per le telecomunicazioni. Il SEMS permette di determinare con estrema precisione il valore dell'attenuazione del campo elettrico e magnetico in modo completamente automatico e con la massima rapidità. In questo video ve ne daremo una dimostrazione e mostreremo tutte le potenzialità di misura che può avere, nonché l'estrema semplicità e precisione nell'esecuzione del test. Il sistema SEMS è stato progettato per essere facilmente trasportato. Un solo operatore è in grado di posizionare il sistema e di effettuare tutte le misure. Grazie alla tecnologia Bluetooth, le unità TX ed RX, cuore del sistema SEMS, si sincronizzano in modo automatico. Nell'eventualità in cui l'ambiente schermato non consenta il passaggio del segnale Bluetooth, è necessario utilizzare il wireless bridge. I due moduli Master e Slave vengono collegati tra loro con un sottile cavo in fibra ottica, permettendo di mantenere la comunicazione tra le unità. Se lo spazio lo consente, si potrà procedere con lo zero posizionando rispettivamente le due unità RX e TX dentro e fuori dalla camera, una di fronte all'altra a distanza prefissata. A questo punto si effettua l'azzeramento tramite scelta dell'antenna da menu, oppure con una lista precaricata dall'operatore. Il SEMS è a tecnologia completamente digitale, non richiede alcun tempo di aggancio, non esistono tempi di attesa tra impostazione della frequenza e segnale pronto e stabile. Il SEMS è fornito di quattro coppie di antenne per il campo elettrico e magnifico a copertura complessiva del range 10 kHz-300 MHz. Una volta chiuso l'ambiente da analizzare, si darà avvio alla fase di test in modalità automatica o manuale. Il SEMS misurerà le frequenze scelte e, confrontando i valori rilevati con quelli di azzeramento per differenza, fornirà i valori di attenuazione che verranno memorizzati e che potranno essere immediatamente verificati. Una caratteristica aggiuntiva del SEMS è la funzione RFLX per individuare l'eventuale punto debole della schermatura e, se necessario, il relativo ripristino. L'unità RX del SEMS permette di memorizzare i dati di analisi di più ambienti e di poterli in seguito scaricare comodamente su computer. Si connette l'unità e si lancia il software fornito in dotazione SEMS PC Utility. In un'apposita cartella, l'operatore potrà disporre del set completo di misure che sono state memorizzate per ogni ambiente ed, eventualmente, stamparle. Per creare una lista di frequenze personalizzata, l'operatore dovrà inserire i dati e poi caricarli sull'unità RX. Per creare una lista di frequenze personalizzata, l'operatore potrà inserire i dati e poi caricarli sull'unità di più ambienti. Per creare una lista di frequenze personalizzata, l'operatore potrà inserire i dati e poi caricarli sull'unità di più ambienti. Per creare una lista di frequenze personalizzata, l'operatore potrà inserire i dati e poi caricarli sull'unità di più ambienti. Per creare una lista di frequenze personalizzata, l'operatore potrà inserire i dati e poi caricarli sull'unità. Grazie.